Il favorito è Cash Back B, uscito a 4 e finito alla pari, questo è il figlio di Cash Guidara S, prima uscita per il team Gociadoro, debutto a gennaio, 16 a Treviso con Edwin Lagas, poi problemi, viene anche comprato la scuola Pink Black, comunque non corre da allora, quindi sono 8 mesi che non corre, prima uscita versione Gociadoro, sgambato bene, giocato. Poi Corsaro Gams è l'avversario, uscito a 3,50 e è andato a 4. È il momento della sesta corsa e penultima di questo buon pomeriggio, venerdì 3 settembre, la riapertura dopo la pausa estiva, penultima corsa. Lo starter chiama i 30 secondi, i cavalli si stanno organizzando, sono in tanti, sono 13 per il premio Civic Duty. Tre anni che non abbiano vinto, 4.000 euro in carriera, qualche problemino perché Claude ZL a mettersi alla dritta, si è messo alla dritta, si può andare. All'1 Corsaro Gams, Andrea Farolfi, 2. Kaul, Lilasi, Santo, Mollo, 3. Chester, Simone, Mollo, 4. Ines Duveril, Mauro, Angeletti, 5. Charles, Roberto, Vecchione, 6. Carabinione Pervi, Pide Annunziata, 7. Clepton, Flavio Martinelli, seconda fila, 8. Closetta L, Mauro Baroncini, 9. Castro Delux, Pietro Gubellini, 10. Carina Jet, Antonio Di Nardo, 11. Cosimo Cappar, Giuseppe Schettino, 12. Cavallista, Francesco Di Stefano, 13. Cashback B, Alessandro Gocciadoro, Viglianteriore, Corsaro Gams, i 4. Ferri a Carina Jet. Vediamo Simone, Santo Mollo, uno fianco all'alto con la stessa giubba. Tende a ritrarsi Cester, non è a rete, Carabiniere Pello. L'errore di Corsaro Gams, c'è lotta per il comando. In vantaggio ci va Charles, che prende la testa. Nei confronti di Caolilassi, in terza posizione, filtrato Castro Deluxi. In mezzo alla pista, Carabiniere Pell, ancora più allargo. Cashback B, che punta subito in avanti. Numero uno, squalificato. Un po' di squalifiche, con Carabiniere Pell, che va su Charles. Chiede strada all'avversario e la ottiene. Si è sbrigato in fretta, vi piede l'annunziata. Carabiniere Pell in vantaggio, Charles è in seconda posizione. Poi in terza, Caolilassi. Cashback B, che punta in avanti, cerca di uscire dalla corda. Anche Castro Deluxi, che anticipa Pello, cabalista. E vengono via in seconda e terza ruota. Seicento in quarantaquattro e uno. La seconda pariglia la va a fare Castro Deluxi. La terza, la fa cabalista. Mentre Cashback B arriva a tiro di Carabiniere Pell, sulla curva di destra. Carabiniere in vantaggio nei confronti di Charles. Cashback B che attacca e Castro che lo fila. Tutto questo a metà gara. In un minuto appena abbondante, trenta e sei secondo parziale. C'è stata velocità per la categoria. Castro Deluxi fila a Cashback B, che è all'appoggio di fianco a Carabiniere Pell. In corda Charles, in terza pariglia cabalista. Tutto questo quando siamo al chilometro. I mille dei primi due. In uno, quindici e uno. Con Cashback B che sta passando su Carabiniere Pell. Ed è inseguito da Castro Deluxi. È passato Cashback B. Si mette in azione Castro Deluxi. Che cerca di avvicinare l'avversario a quattrocento dal traguardo. Questo parziale in ventinove tre. Con Cashback B che ha una lunghezza e mezza. Castro Deluxi è passato in seconda posizione. Avanti a Carabiniere Pell. È in vantaggio Cashback B che deve gestire due lunghezze. La retta d'arrivo. Castro Deluxi è lì a un paio di lunghezze che non guadagna più. Poi il cabalista e Charles che cercano di venire a centropista. Cashback B prosegue in vantaggio. A 80 dal traguardo. Cashback B deve far passare i metri. Cashback B viene a vincere in maniera netta. Charles è secondo. Per il terzo Caollila batte. Castro Deluxi. 1.59 e mezzo. Un po' di paura solo per l'ultima falsa di galoppo. In corsa tutto bene. Prima curva in quarta ruota. Poi lo scoperto. Poi sfonda. E vince Easy. Cashback B raddoppio per Alessandro Gocciadoro. Anche da allenatori. Colori della Pink e Black dei fratelli Miciche. La vittoria a Miladino 14.8. Andiamo a vedere per le piazze. Perché è calato nel finale Castro Deluxi. Alle piazze abbiamo il numero 5 al secondo posto di Charles. E al terzo il 2 di Caollila si. 13.5.2.